musica e quindi la nostra storia comincia, credo io me la faccio usare, andando un pochino in miei bambotti Siamo qui in San Spiridione, una chiesa sconosciuta alla gran parte dei reggiani in una zona della città che fu ricca di monasteri e che vide la presenza di un numero alto di opere pie in particolare qui nel 600 era l'opera pia dei mendicanti il più luogo dei mendicanti e per quello che si riesce a capirne la sezione maschile, potremmo dire con linguaggio moderno era sul lato settentrionale di Corso Cairoli e di Via Franchetti e il lato femminile invece, la sezione femminile era invece sul lato meridionale delle stesse vie qui era probabilmente l'oratorio quindi della sezione femminile dei mendicanti e questo oratorio venne ricostruito nel 1736 ad opera di Andrea Tarabusi e affrescato negli anni immediatamente successivi da Vellani, da Francesco Vellani, pittore modenese che lascerà altre opere numerose a Reggio, in Palazzo Gabbi, in Palazzo Masdoni, nella chiesa di San Giacomo e Filippo nel 1750 il più luogo dei mendicanti viene da Francesco III, duca d'Este compreso all'interno dell'albergo dei poveri e qui, dieci anni dopo, arrivano anche gli orfani il più luogo degli orfani viene unito all'albergo dei poveri che già comprendeva i propri interni mendicanti e San Spiridione diventa quindi l'oratorio di quello che diventa l'orfanotrofio maschile e femminile della città la parte maschile dell'oratorio viene brutalmente eliminata da Francesco IV nel 1838 perché teme che ci siano trame liberali al proprio interno e verrà riaperto tra i mugugni della città che aveva mal digerito l'intervento del duca in Sant'Agostino qui rimane invece la parte femminile e rimarrà gestita dalle suore di San Vincenzo che vengono chiamate dal duca nel 1840 ed espulse invece dall'amministrazione cittadina nel 1870 quando siamo ormai in un clima anticlericale in realtà le suore rimangono poi all'interno di questo isolato perché alcuni anni prima hanno comprato Palazzo Caffarri sulla Via Emilia lì avevano aperto nei primi anni 60 le scuole quelle scuole di cui si festeggiano in quest'anno i 150 anni l'oratorio quindi reica in facciata la data del 1759 ma in realtà è probabilmente la data della facciata quella non dell'oratorio che viene costruito e ci sono documenti non pugnabili in questo senso appunto nel 1736 decorato da Francesco Avellani e da due quadraturisti i benedetti è una sala teatro sostanzialmente una chiesa a tutti gli effetti ma rappresentata come si fa nel primo settecento quindi sfondando gli spazi con dei giochi illusionistici con dei trompeux dilatando quindi sfondando creando dei giochi di illusioni in modo che lo spazio diventi maggiore di quello che non è in effetti ma anche con dei fini di fede religiosi cioè i muri sono a monocromo Avellani rappresenta sui muri sei immagini di donne rappresentanti sei virtù i benedetti rappresentano appunto architetture finte architetture colonne binate, ioniche, festoni e quant'altro ma tutto deve volgere verso la volta nella volta dove c'è l'assunzione di Maria e la Madonna viene osservata commentata dagli apostoli stupiti che si affacciano da una balconata che corre lunghi due lati maggiori dell'edificio tutto però appunto in un gioco di illusioni in cui l'anima del fedele deve essere attratta verso l'alto gli spazi si dilatano ma si dilatano perché l'anima del fedele sia indirizzata al cielo dove deve naturalmente tendere è un'opera importante questa del Vellani negli stessi anni Vellani lavora a Palazzo Gabbi ed è probabile che sia lo stesso conte Gabbi che ha Vellani in casa a fare quel ciclo che si trova adesso in Palazzo Gabbi cioè al circolo del casino e che rappresenta forse il punto più alto dell'arte del Vellani negli stessi anni il conte è anche tra gli amministratori del più luogo dei mendicanti e chiama quindi Vellani a operare all'interno di San Spiridione e qui Vellani realizza una delle sue opere più alte di tutta la sua carriera pittorica Vellani oltre alla decorazione con le sei figure a monocromo dei muri e alla volta affrescata dipinge anche le tre tele presenti nella chiesa all'altare maggiore all'interno di un tendone vario pinto che ci rappresenta proprio questa dimensione teatrale dell'oratorio dipinge l'elemosina di San Spiridione quindi un quadro che rappresenta il santo a cui è intitolata la chiesa e negli altari laterali vengono dipinti Sant'Andrea Avellino da una parte e sull'altro altare la Sacra Famiglia con San Giovanni Battista sono quadri che vengono realizzati fra il 38 e il 41 42 probabilmente sono gli anni ancora della prima fase in qualche modo di Vellani Vellani è certamente risente delle influenze dei principali pittori bolognesi del tempo del Creti e del Crespi ma certamente ha anche conosciuto la pittura veneta perché certe cromie sono tipiche dell'arte veneta che lui ha forse visto direttamente a Venezia ma certamente ha potuto vedere nei quadri che erano raccolti allora nella Galleria Estense